Quanto è alta una torre eolica? Se consideriamo una pala di circa 80 metri, raggiungiamo altezze sulla verticale anche fino a 200-206 metri. Mi paragono con una cosa costruita? Il Duomo di Milano. Se pensiamo a un parco eolico da 50 MW, innanzitutto questo parco potrà fornire elettricità pulita a oltre 40.000 famiglie. E soprattutto parliamo di grandi opere, quindi come autostrade, ferrovie, porti, dighe, tutte opere che influiscono sulla vita quotidiana di ogni cittadino. Incontri sulla via. Punti di vista sulla valutazione di impatto ambientale. Bentornati al nostro podcast ISPRA, Incontri sulla via. Allora, la puntata di oggi si occupa di energie rinnovabili, nel caso specifico energia eolica. Oggi ho incontrato due tecnici. Vediamo di che cosa si occupano. Io intanto vi ricordo che sono Viviana Lucia di ISPRA e del Dipartimento Valutazioni Ambientali. Adesso do la parola a Margherita Ladronico. Margherita, presentati e dici cosa fa la tua società. Buongiorno, ciao Viviana. Io sono Margherita Ladronico e in Vestas mi occupo di gestione progetti. Vestas è il leader mondiale in soluzioni energetiche sostenibili con focus principale sulla energia eolica. Abbiamo alle spalle più di 40 anni di esperienza nel settore e siamo presenti in tantissimi paesi, in circa 88 paesi e contiamo una potenza installata di circa 179 gigawatt, che tradotta in turbine, parliamo veramente di grandi numeri, sfioriamo le 90.000 turbine installate. A Taranto principalmente è presente lo stabilimento di produzione di paleoliche per impianti a terra, cosiddette onshore, e il gruppo ha poi deciso di investire anche sull'offshore, e pertanto sempre allo stabilimento di Taranto è presente anche il lancio dell'avvio della produzione di paleoliche per l'offshore, parliamo delle turbine più grandi al mondo, la Vestas V236 da 15 megawatt. Ah no, una domanda che avevo che non ho chiara, voi siete intanto produttori di paleoliche, poi però anche proponenti dei progetti, perché io ogni progetto che ho visto, me ne sono capitati tanti, sotto mano c'era modello Vestas, modello Vestas modello Vestas modello Vestas, e tu dico cavolo, allora Vestas diciamo fai i prototipi, benissimo. Il nostro secondo ospite è Marilena Di Stefano, sempre di Vestas, che anche lei adesso si autopresenterà come prevede il nostro format. Marilena, allora tu di cosa ti occupi? Buongiorno, buongiorno a tutti. Io nel team di sviluppo di Vestas mi occupo prevalentemente di quelli che sono tutti gli aspetti ambientali, quindi valutazione di impatto ambientale dai nostri progetti e le iniziative che abbiamo in sviluppo in Italia. Allora, sei tu la mia diretta interlocutrice. Esatto, cercherò di chiarire o comunque fornire informazioni più chiare possibile. Benissimo, e allora quello che ti chiedo è qual è il vostro approccio nello studio di impatto ambientale quando proponete i vostri impianti eolici? Noi ovviamente, così come per tutte le altre tipologie di impianto, seguiamo quelle che sono le linee guida nazionali e internazionali per lo sviluppo e la redazione degli studi di impatto ambientale. La fase di monitoraggio è una fase fondamentale per la redazione degli studi di impatto ambientale, perché ci permette di caratterizzare il territorio e analizzare quelli che potrebbero essere effettivamente gli impatti o le interferenze che il nostro progetto può comportare sulle diverse componenti ambientali. Gli aspetti visivi, gli impatti visivi sul paesaggio sono quelli che forse preoccupano o pongono più domande un po' tra le comunità locali sul territorio. Per quanto riguarda invece la biodiversità, l'interesse maggiore è legato alla bifauna e alla chirotterofauna. Ricordiamo che il rotterofauna vuol dire pipistrelli. Pipistrelli, esatto. Ok, per essere chiari. Esatto, quindi diciamo uccelli e pipistrelli. Allora c'è anche una vecchia linea guida del Ministero dei Beni Culturali che puntava l'attenzione sulla velocità di rotazione delle pale. Ci stiamo muovendo verso turbine con rotori di maggiori dimensioni che permettono anche di ridurre, di diminuire la velocità di rotazione. E senti, fai un esempio perché io ogni volta che leggo le misure mi impressiono. Quanto è alta una torre eolica standard oggi? Allora, diciamo che Vestas ha sul mercato, se parliamo delle ultime turbine di nuova generazione, dei 6 megawatt fino anche ai 7.2 megawatt. Stiamo parlando di turbine con un'altezza al mozzo, quindi la famosa navicella che si vede di circa dai 119 ai 125 metri, considerando come valori, come range. Se consideriamo una pale circa 80 metri, raggiungiamo altezze sulla verticale anche fino ai 200-206 metri. Quindi stiamo parlando di altezze significative rispetto... Un paragone? Un paragone con una cosa costruita... Il Duomo di Milano. Io sono di Milano. Però sì, diciamo che le altezze forse anche di più, forse anche più alta. Penso di sì. Con la pala. Quindi diciamo che stiamo parlando di altezze considerevoli. Considerevoli, esatto. Benissimo. Ritorniamo quindi a parlare di monitoraggio, che è la parte che ci interessa particolarmente. Per quanto riguarda la definizione e quelle che sono le misure in mitigazione, noi ci muoviamo su due fasi. Prima di tutto già nella fase di progettazione e di valutazione dell'iniziativa, andiamo a cercare di implementare tutte quelle che sono le misure in mitigazione e riduzione degli impatti. Quindi già in fase di definizione della posizione degli aerogeneratori, cerchiamo di mantenere una distanza minima tra le turbine. Quindi stiamo parlando, per le turbine che citavamo prima, di circa 162 metri della navicella. Quindi la distanza minima tra le turbine varia tra i 400-450 metri fino a famosi 5 diametri rotori, 810 metri. Ma questo per motivi di sicurezza, motivi statistici? Che motivi? Diciamo per tutti questi motivi insieme, quindi sia ovviamente di design dall'impianto, per evitare quelli che sono i famosi effetti scia tra turbine, sia per impatti paesaggistici, perché ovviamente avere turbine più distanziate tra loro diminuisce quello che è la percezione di disturbo sul paesaggio, ma anche per una mitigazione di quello che è il possibile rischio di collisione con la vifauna, l'archirotterofauna tra le turbine. Ovviamente avere turbine più distanziate permette di avere anche dei corridoi di passaggio per la vifauna. Un altro aspetto molto importante che consideriamo in fase di progettazione è ovviamente la distanza da tutti quelli che sono i recettori abitativi, perché oltre a possibili impatti sulla biodiversità, ovviamente dobbiamo anche considerare quelli che possono essere gli impatti sul contesto sociale. E questo riguarda soprattutto il suono, giusto? Rumore? Impatto? Sebbene comunque stiamo parlando di turbine a basse emissioni sonore, però ovviamente anche a livello normativo ci sono dei limiti di emissione, di emissione del rumore da rispettare in corrispondenza di quelli che sono le abitazioni. Quindi ovviamente tutti i nostri studi di impatti ambientali sono supportati anche da studi specialistici, quindi studi di valutazione del rumore, per le quali seguiamo anche le linee guida di Ispra per la valutazione del rumore prodotto da impianti eolici. Questo per la salute umana e per la biodiversità invece? Diciamo che laddove anche in fase di esercizio e quindi di operatività dell'impianto sono previste misure di mitigazione, come per esempio misure di mitigazione per la vifauna che consistono nell'installazione di sistemi di videocamere o di radar che non fanno altro che identificare il possibile avvicinamento di una specie target, quindi quelle che sono le specie sensibili presenti sul territorio e emettere dei segnali acustici, quindi agire come dei dissuasori per allontanare la specie oppure anche prevedere l'arresto della pale per evitare quindi il rischio di collisione della specie con la turbina. Invece parlando di compensazione, quindi opere di compensazione in genere cosa prevedete? Allora noi ovviamente ci seguiamo quella che è la normativa in termini di compensazioni da progetti eolici sul territorio, quindi il famoso 3% della revenue annuale prodotta dal parco eolico dovrà essere destinata ad opere di compensazione ambientale e sociale sul territorio. Interloquiamo con le amministrazioni locali per capire quali sono le necessità del territorio e prevedere già delle opere di compensazione che possono essere per esempio programmi di riforestazione, rimboschimento laddove magari in fase di installazione dovessimo andare a espiantare un determinato numero di alberi. Per quanto riguarda il monitoraggio, quindi quanto dura il monitoraggio dal momento della progettazione alla fase di esercizio quindi alla realizzazione dell'opera? Ci sono dei tempi standard? Diciamo che lo studio di impatto ambientale deve prevedere proprio una relazione, un piano di monitoraggio ambientale che indichi tutti quelli che sono le attività, le campagne di misura per le diverse componenti ambientali sia in una fase anti-operam, quindi prima della realizzazione del progetto, sia in fase di costruzione che ovviamente poi in fase di esercizio per andare a verificare quelli che potrebbero essere gli impatti del progetto sul territorio. Per esempio per la vifauna noi prevediamo un anno di monitoraggio in fase anti-operam, quindi per caratterizzare quella che è la besina ambientale, la situazione corrente e poi ovviamente in fase di esercizio quindi con l'impianto in funzione prevediamo almeno due anni di monitoraggio della vifauna, questo per andare a verificare se e laddove sono presenti delle cambiamenti nella presenza e nella distribuzione delle specie al vifauna e laddove questo dovesse essere rilevato, implementare tutte le misure e mitigazioni necessarie per ovviare appunto agli impatti. Torniamo a te Margherita adesso per parlare dei target di produzione di energia eolica che riguardano l'Italia, cosa ci puoi dire in proposito? Il governo italiano ha fissato quelli che sono gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, le fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO2. Sicuramente l'Italia tra i target che si è data prevede di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili di 131 gigawatt entro il 2030 e pensiamo che di questi 28 gigawatt sono assegnati alla energia eolica considerando sia l'eolico a terra che a mare, quindi offshore. Quindi che cosa vuol dire raggiungere 26 gigawatt di eolico a terra? Se pensiamo a un parco eolico da 50 megawatt innanzitutto questo parco potrà fornire l'elettricità pulita a oltre 40.000 famiglie ed evitare al tempo stesso l'emissione di più di 50.000 tonnellate di CO2 all'anno. Ok, quindi valutato in termini di CO2 equivalente? Esatto. Esatto. Una cosa che volevo chiedervi che è molto interessante è parlare di economia circolare perché quando noi facciamo l'analisi dello studio impatto ambientale una fase che viene sempre analizzata è quella della dismissione. L'allontanamento di questi materiali che vengono utilizzati o il riciclo di questi materiali date anche le dimensioni delle torri, delle turbine e delle pale e diventa un problema ambientale ulteriore in fase di dismissione. Quindi Vestas che cosa prevede? Vestas da circa tre anni, quindi nel 2021, ha avviato e ha deciso di lanciare un programma di economia circolare che ha l'obiettivo proprio di incrementare la percentuale di riciclabilità delle proprie turbine. Stiamo lavorando per raggiungere la neutralità da emissioni di CO2. Questo significa quindi ridurre al massimo tutte le emissioni in tutte le attività, a partire da produzione, ma anche i trasporti, l'illuminazione, tutta la catena di fornitura. Ad oggi le turbine sono riciclabili per l'85%, che già è un buon target, ma il rotore, tuttavia il rotore è composto per la gran parte da materiali non riciclabili. Quindi l'obiettivo al 2040 di Vestas è di produrre turbine che generino zero rifiuti. approfondiremo sicuramente questa tematica con altri ospiti, ma intanto vi ringrazio anche perché appunto siete un punto di riferimento. Quindi grazie mille. Grazie. Grazie. Ciao Marco Pisapia, concludiamo insieme la puntata di oggi. Beh, comunque è stata una chiacchierata interessante con le ospiti di Vestas, un sacco di informazioni, un sacco di cose nuove. Da questo incontro cosa possiamo concludere? Ma io penso che la cosa più importante sia intanto fare un riferimento alle energie rinnovabili, perché il focus appunto della puntata era questo, parlare delle energie rinnovabili. Ma tu Marco, che sai delle energie rinnovabili? Quali sono queste energie rinnovabili? Vogliamo fare un sunto? Ma che l'energia da fonti rinnovabili si intende, energia da fonti non fossili, ad esempio l'eolica, la geotermica, l'energia marina, ad esempio dal modo ondoso, dalle maree, l'energia osmotica, l'energia idroelettrica, l'energia dalle biomasse. L'energia solare? L'energia solare. L'energia solare, va bene. Adesso voglio dare un po' di numeri. Vi dico che ci sono circa 500 progetti di impianti eolici depositati presso il Ministero dell'Ambiente in procedura via e 8 di eolico offshore. Aggiungiamo poi circa 600 progetti di agrivoltaico e soltanto 3 di energia solare flottante, un geotermico e altri progetti ancora, per un totale di circa 1700 progetti in corso di valutazione di impatto ambientale. Beh, veramente grandi numeri Viviana. Per ritornare al protagonista di oggi che è il vento, possiamo chiudere la puntata facendo la nostra solita citazione. Grazie a tutti, ci sentiamo al prossimo podcast. Nessun vento è favorevole per chi non sa dove andare, ma per noi che sappiamo anche la brezza sarà preziosa.